Buongiorno a tutti, eccomi qua in una splendida location, siamo al 65esimo Roma Art Festival. Quattro giorni intensi di arte, si respira l'arte dovunque e io sono qui insieme a tantissimi altri artisti. Venite con me che vi porto al mio stand. Eccomi qua, una piccola parte dei miei quadri, questa volta presentati anche in una nuova o associare alle immagini, gli odori con questo purpurri proveniente dalla mia città di origine. E ho voluto esporre quadri che sono anche un po' più veloci, senza cornice, per un pubblico diciamo di passaggio. Essere qui vuol dire parlare con le persone, raccontare la storia dei quadri e dare un messaggio come artista diretto e creare quella relazione empatica con l'osservatore e il tuo cliente. Ora parleranno le immagini dal sole, così come le ho sistemate. Grazie.